bentornati prima di cominciare a parlare delle cose di milan devo ricordarvi un appuntamento importantissimo questa sera alle ore 20 sul canale di ale passione milan andrà in onda la seconda puntata del suo show e a essere intervistato questa volta ci sarò io quindi mi raccomando non mancate vi lascio in descrizione il link al video e soprattutto iscrivetevi al canale di ale passione milan perché ale veramente un ragazzo molto simpatico molto gentile e merita il vostro la vostra iscrizione quindi andate a vedere il video iscrivetevi guardate che vi seguo vi controllo se non lo fate poi vi segnalo e mi raccomando veniamo alle cose di milan ridendo e scherzando fra praticamente nove giorni giochiamo contro la juventus oggi dovrebbe essere definitivamente confermata la data del 12 per la partita di coppa italia contro i bianconeri partita che noi dovremmo giocare con a parte tanti assenti anche con la maledizione di non battere le juventus in coppa italia dal 1985 così come ci racconta la gazzetta dello sport che come sapete ha sempre un occhio di riguardo per noi e diciamo se una giornata nasce sotto i migliori ospici del sole degli uccellini che cantano leggendo la gazzetta dello sport vi riporta immediatamente alla durezza del vivere cosa dice la gazzetta dello sport parla di ribaltone milano cioè per riuscire a conquistare la finale coppa italia bisogna fare un miracolo pioli è picconato da rangnik picconato da rangnik ma la squadra può giocare con lui vedete qui la solita mistica della difesa spada tratta del nostro mister e dell'attuale contro invece l'invasione dello straniero se fosse fatto anche in altri campi ma vabbè lasciamo perdere la juventus dice potrebbe essere distratta da pensieri champions e scudetto quello che potrebbe invece interessare molto noi sono i denari perché perché vincere la coppa italia porterebbe un beneficio di cassa importante il premio vittoria di 5 milioni e mezzo circa di euro poi ci sono i 12 milioni di euro garantiti dall'accesso ai gironi di europa league e poi i 3 milioni di gettone della supercoppa europea potrebbe quindi 12 17 una ventina di milioni di euro che potrebbero entrare nelle casse è chiaro che tutto questo è molto complicato da ottenere perché dovremmo andare là a vincere tra l'altro sto organizzandomi per fare una diretta credo mercoledì prossimo ve lo dirò però con certezza naturalmente saprete per tempo questa volta data e ora della diretta dove parleremo della coppa italia parleremo di mercato parleremo di tutte le vicende del milano ci sono grossi problemi di formazione in vista della coppa italia perché oltre tutti gli squalificati oltre iba infortunato che comunque non avrebbe giocato ugualmente andrea conti sta facendo un lavoro personalizzato la volontà della squadra e del mister pioli è quello di cercare di recuperarlo per la partita di torino anche perché in caso contrario giocherebbe la salta sinistra e calabria a destra oltre a lui però ieri abbiamo avuto notizia dell'ennesimo infortunio per duarte e qui naturalmente la battuta ci sta cioè prendi duarte e mettilo da parte mi scuso per la bassezza ma in ogni caso il concetto è che è purtroppo questo difensore non riusciremo mai a vederlo praticamente in questa stagione problemi al flessore probabile uno stiramento un mese di stop quindi rientrerà ponente i primi di luglio ma a parte questo non lo so quanto il mister pioli poi facesse affidamento su duarte per la composizione della difesa una difesa che tra l'altro dovrebbe vedere occhier o gabbia al fianco di romagnoli visto che anche musacchio mi pare che sia stato un po messo indietro rispetto alle gerarchie attenzione però attenzione sempre la gazzetta dello sport ci racconta di quelle che sono le colonne per il finale di stagione qui ci sta un grandissimo da ier ride come dicono a roma kier paquetà e leao serve uno scatto per un minan degno dell'europa allora a parte che kier non è nemmeno nostro e non so se lo riconfermiamo paquetà e leao uno è sul mercato e l'altro non si sa tutti noi ci auguriamo ovviamente che questi tre giocatori possano elevare le prestazioni di chi era aveva già fatto anche abbastanza bene da paquetà e leao però ci aspettiamo un cambio di di rotta per essere confermati per il milano del futuro e poi per aiutarci a raggiungere l'obiettivo europa che sarà molto difficile sarà tutto molto difficile anche perché come ci dice il giornale l'infortunio libera metterà nudo i limiti della squadra rosso nero l'assenza dello svedese ci dirà infatti quella che è la misura di quelli che restano giusto giusto sottolineare questa cosa l'ho fatto anch'io diverse volte in questi giorni cioè fatto che adesso non c'è più la scusa ibra adesso chi giocherà dovrà dimostrare di essere da milan e anche in previsione futura ibra che tra l'altro oggi torna in italia i tempi di recupero sono sempre gli stessi anche se verrà sottoposto non oggi ma nei prossimi giorni a ulteriori esami ogni caso potrebbe rientrare se speriamo bene dovrebbe rientrare 7 luglio contro juventus se speriamo male rientrerà al 12 contro il napoli giocherà insomma sei o sette partite tra l'altro ibra rischia di diventare una delle vittime di gazzidis sì perché sui giornali e sui media in questo periodo l'ingrato gazzidis continua a tener banco come sapete c'è la questione ibraimovic al quale gazzidis un giorno vuole rinnovare un giorno no non si sa poi decide ragniche eccetera quindi anche in questo senso vedete il mirino puntato sulla testa del nostro amministratore delegato ma non solo perché c'è anche buonaventura buonaventura che in questi giorni sta ricevendo delle lodi sperticate su tutti i giornali dopo ieri che ci hanno vi ricordate ieri ci hanno raccontato che era il terzo miglior bomber degli ultimi non so cosa statistiche molto gallianesche oggi ci dice che il centrocampista in condizione a milanello è uno dei più brillanti a pioli piace la sua utilità e bianconeri ha già segnato proprio a doha e attenzione che sono statistiche molto importanti quindi vedete tutta questa tutta questa scrittura ci sta raccontando quella che è la linea editoriale dei giornali degli editorialisti e tutto quanto cioè il fatto che come ho scritto anche sul mio blog in un recente articolo c'è l'avversione nei confronti di rangni per tanti motivi sia ideologici che è un po anche di paura perché se magari il progetto dovesse rimettersi in moto in un certo senso sappiamo che il milan con la potenzialità di nome strutture tutto quanto che ha è un attimo che torna lì quindi attenzione dalle parti là di quel paese di quella città con la mole non lo so veniamo alle questioni di mercato allora questioni di mercato che riguardano mercato in uscita in questo caso si parla di benasserre ma nicolò schiera che secondo me è uno personaggio serio e attendibile giornalista serio e attendibile ci dice che non ci sono contatti tra benasserre e pari san germain noi l'abbiamo sempre saputo è una notizia giornalistica in realtà soprattutto a fronte di un'offerta di 30 milioni di euro benasserre non si muove non si muove la prossima stagione da milano veniamo a un altro concetto che potrebbe entrare nel mitologico lessico del tifoso milanista dopo l'effetto pioli che oggi continua un po a tenere banco c'è la lista di ragnic sapete che ragniche gioielliere ragni un po tutto adesso ha fatto pure la lista e qual è la lista di la ragnina lista dei giocatori che lui vorrebbe allora la leggiamo insieme poi l'analizziamo milenkovich valutato 30 milioni secondo mediaset si valuta uno scambio con paquetà iovic danfris anzi chiedo scusa dunfris qualcuno dice danfris qualcuno dunfris ma credo sia dunfris la pronuncia corretta il psv chiede 20 milioni di euro qui c'è l'intermediazione di raiola che spinge per darci una mano sapete che poi con raiola si intavola tutto un discorso anche relativo a un prolungamento del contratto di donnarumma del quale ieri si è parlato ancora possibile estensione addirittura per due tre anni ma insomma vedremo nei prossimi giorni poi soboslai che rappresenta l'ossessione di ragniche e poi florentino veniamo i movimenti in difesa perché perché il corriere fiorentino dice che su robin coq il difensore del friburgo c'è anche la fiorentina oltre al milan e al napoli io comincio a avere dubbi su questo nome comincio invece avere un pochino più di certezze su milenkovich perché potrebbe essere un tipo di difensore come abbiamo già detto che rappresenta la soluzione adatta sia per fare il centrale in una difesa a quattro sia eventualmente nel caso in cui dovessimo andare ad applicarla per qualche motivo anche uno dei tre nella difesa a tre ma potrebbe anche fare il terzino destro bloccato insomma è un giocatore molto duttile e credo che questo nome sia piuttosto spendibile per la difesa del milan del futuro notizia di mercato che mi ha lasciato un po così un interessamento dell'udinese andrò a informarmi per longstaff longstaff è un emergente centrocampista che gioca nel newcastle che quest'anno sta facendo un'ottima un'ottima stagione che tra l'altro era una delle richieste di solskjaer al manchester united della scorsa estate ebbene pare che l'udinese abbia offerto un contratto giocatore in scadenza un contratto di cinque anni con raddoppio dello stipendio non lo so vedremo cosa succede sarebbe una notizia abbastanza clamorosa perché ripeto longstaff è un nome che piace a tanti riguardo all'attacco si continua a lavorare sempre sul fronte jovic che ormai è lo sappiamo è definitivamente la prima scelta bisognerà trovare ovviamente la volontà del giocatore di venire da noi e poi la formula corre al madrid io continuo a credere continuo a credere che la formula che si stia cercando di mettere in tavola sia quella del prestito biennale con opzione per il riscatto quindi cifra stabilità adesso visto che c'è tempo visto che possiamo farlo a differenza di altri casi dove il tempo stringeva e quindi non c'era modo di mettere la cifra come nel caso di rebic vogliamo fare questa cosa per andare a prendere jovic che ripeto a mio avviso è la prima scelta chiudiamo con due notizie extra milan fino a un certo punto la prima è che sembra davvero che fredkin non comprerà la roma e questo a riprova del fatto che in questo momento storico con tutte le vicissitudini che ci sono col fatto che le aziende hanno perso molto denaro e quindi è difficile che in questo momento si vada a fare investimenti di un certo tipo io credo che quelli che continuano a pensare che a breve arriverà arno secondo me sbagliano tra l'altro quando ieri ho dato la fra virgolette bomba era ironico cioè non volevo dire che era una notizia attendibile era una notizia come dire che vi ha buttato lì semplicemente a riconferma del fatto che in questo momento pensare a una cessione del milan a luglio come qualcuno continua a dirmi come qualcuno continua a insistere secondo me è piuttosto utopico poi nel futuro nel futuro non c'è certezza per cui potrà succedere di tutto può essere anche che magari non lo so fra un anno si cambi proprietà la vedo difficile ma sapete che ci sono tante cose che devono concatenarsi tra queste anche la questione dello stadio e chiudiamo vi chiudo con una lettura una lettura molto interessante relativa a una dei miei grandi cavalli di battaglia di questi giorni cioè famoso l'algoritmo il famoso l'algoritmo l'algoritmo scritto tutto attaccato un hashtag il presidente della figici gravina sul nuovo algoritmo e sulla ripartenza della serie a forse non sono stato bravo a far capire l'algoritmo quello porterebbe alla classifica ponderata quello degli inglesi che sono arrivati dopo e ora tutti dicono che il loro modello non ci sarebbe alcuna discrezionalità e poi dice giocare a porta chiusa una tristezza eccetera eccetera l'algoritmo porterebbe a classifica ponderata vi auguro di trascorrere una buona giornata alla ricerca naturalmente della soluzione dell'algoritmo di gravina che è una cosa che tiene banco che tutti noi vorremmo risolvere forse chissà magari la troveremo anche sulla settimana enigmistica sabato in edicola non vi dimenticate questa sera ore 20 il canale di Ale Passione Milan per il suo show per la seconda puntata del suo show la mia intervista nel frattempo mettete un like al video iscrivetevi al canale e ci sentiamo alla prossima